Signor Sindaco, possiamo dirlo un'indagine che è partita proprio da lei? È partita da mie segnalazioni, naturalmente l'indagine è stata condotta dalla nostra polizia locale, dal gruppo operativo misto, dal GOM e naturalmente in costante collaborazione con la Procura della Repubblica. Un'indagine importante, durata sei mesi e che ha portato all'individuazione di un importante giro di spaccio, in particolare partiva da alcuni temporanei ospiti del dormitorio, quattro tunisini e un magrebino tra i 20 e i 50 anni, ma che poi si diramava in realtà in diverse parti della città e che interessava nei consumatori in qualsiasi fascia sociale, dal cameriere allo studente universitario fuorisede, ha disoccupato e quindi in realtà diverse classi sociali, stiamo parlando di cocaina, stiamo parlando di dosi da mezzo grammo, di circa 50 euro a dose per un giro importante, perché è stato, diciamo così, stimato in circa 1000 euro al giorno per ciascuno dei spacciatori. È stato fondamentale il lavoro di indagine fatta dalla GOM ed è stato fondamentale il lavoro delle telecamere, che ci dice quanto è stato importante in questi anni e quanto è importante continuare a investire per mettere nelle nostre città, nei nostri quartieri, le telecamere di videosorveglianza che sono fondamentali per le indagini, sono fondamentali per la sicurezza. Ci tengo anche a dire, oltre che ringraziare naturalmente la polizia locale, Aspef per la direzione di Aspef, per la collaborazione, ci tengo a dire che naturalmente il dovere e quello che è anche per noi un valore, cioè quello dell'ospitalità, dell'accoglienza, del sostegno a coloro che hanno più bisogno, sta insieme all'assoluto e rigoroso intransigente controllo delle regole e della sicurezza. Questo ci tengo a dirlo e ringraziare naturalmente la polizia locale per il lavoro importante fatto e che anche questo dà il segno di quanto è importante i 18 agenti in più che abbiamo assunto in questi anni, compreso i 5 nuovi che arriveranno quest'anno, perché il rinnovamento anche generazionale della nostra polizia locale è fondamentale. Questa indagine ha avuto tante, è durata molto, ha avuto pedinamenti, controlli di tabulati, insomma un lavoro molto molto importante di polizia investigativa fatto dalla nostra polizia locale e quindi li ringrazio naturalmente. Qual è stata la difficoltà in particolare di questa indagine? La parte più complessa dell'indagine è stata proprio quella di riuscire ad individuare con certezza le persone, in quanto questi si cambiavano regolarmente il numero, la sim telefonica, per cui anche le intercettazioni dei tabulati telefonici erano particolarmente difficili, perché ogni volta occorreva iniziare da capo e anche il fatto che questi si spostassero anche con mezzi, come la bicicletta, in varie zone della città, per cui non era facile seguire gli spostamenti di questi soggetti che erano particolarmente guardinghi. In questo, oltre al discorso dei pedinamenti, ha aiutato molto il sistema di videosorveglianza in tutta la città che ha consentito di seguire gli spostamenti di questi soggetti dal dormitorio alla piazza di spaccio.